E se non sai Raffellini, te te siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Dopo pochi mesi, da i migliori giorni, arriva nelle sale italiane più o meno intorno a Ferragosto Io sono andato a vederlo un po' in ritardo perché da me è arrivato, ma l'hanno tolto praticamente subito Ho visto anche la grandissima concorrenza, allora sono andato fino a Roma pur di recuperarlo perché ci tenevo molto Ci tenevo a vederlo in sala nonostante, e lo dico subito, non mi aspettassi un capolavoro, non mi aspettassi un grande film Però ci tenevo soprattutto perché ho visto in sala il primo film che, come qualcuno ricorderà, mi era piaciuto nella prima parte moltissimo E molto meno poi nella seconda, abbiamo fatto anche una live a tema a gennaio Dopo pochi mesi arriva il sequel, dal titolo I peggiori giorni, ancora una volta diretto a quattro mani da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo Un episodio a testa praticamente Bruno e Leo sono anche coprotagonisti dell'unico episodio dei peggiori giorni che riprende un episodio dei migliori giorni Quindi questo subito vi fa capire che sono due film che l'un con l'altro hanno in comune soltanto lo stile, la struttura, i quattro episodi, le caratteristiche Ogni episodio ambientato in una determinata festività importante per noi italiani Da Natale al primo maggio, da Ferragosto ad Halloween, quindi queste sono sicuramente le cose in comune Per il resto, soltanto il primo episodio di questo film riprende i migliori giorni L'episodio ambientato tra la vigila di Natale e Natale stesso, quindi 24-25 dicembre Nel primo film c'erano appunto Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Liliana Fiorelli e Marco Bonini Che sono presenti anche in questo film con la grande partecipazione però aggiuntiva di Renato Carpentieri Del quale sentivamo già la voce in una telefonata nel primo film Interpreta il padre di Foglietta, Bruno Leo, di questi tre fratelli È una new entry nel cast veramente importantissima Per il resto, il grande cast che possiamo notare già dalla Locandina Già soltanto leggendo i nomi ci rendiamo conto che ci sono tanti bravissimi attori Attori che conosciamo, più o meno giovani La maggior parte di essi affermati di altissimo livello Del cinema italiano come poi era anche nel primo film Secondo episodio interpretato da Fabrizio Bentivoglio e Giuseppe Battistone Ambientato il primo maggio, quindi la festa dei lavoratori Terzo episodio interpretato da Ricky Memphis, Claudia Pandolfi, Neri Marco Re E Anna Ferzetti ambientato a Ferragosto Quarto episodio interpretato da Rocco Papaleo e Giovanni Storti Di Aldo Giovanni e Giacomo ambientato ad Halloween Non voglio tornare a parlare più di tanto del primo film Ne fare paragoni perché alla fine tranne il primo episodio Come detto gli episodi sono a sé stanti Non c'entrano nulla gli episodi del secondo film con quelli del primo Ma una riflessione sicuramente mi sento di farla Una delle prime riflessioni che ho fatto dopo aver visto il film Anzi forse già mentre ero in sala durante la visione Il primo film peccava soprattutto di equilibrio Perché secondo me il primo episodio era bellissimo Il secondo era ottimo Il terzo mediocre ed estremamente banale Il quarto pessimo per tante ragioni Di cui appunto abbiamo già parlato a gennaio Peccava di equilibrio perché comunque c'era una tale differenza Dal mio punto di vista di qualità tra la prima e la seconda parte Che poi naturalmente diventava un grande difetto La gestione a livello anche di scrittura e di sceneggiatura Dei quattro episodi In questo caso c'è grandissimo equilibrio Perché dal mio punto di vista nessun episodio spicca particolarmente Come accadeva invece nella prima parte del primo film Ma allo stesso tempo non ci sono neanche episodi pessimi Tranne uno che obiettivamente non mi è piaciuto E che ritengo insufficiente Ma tolto quello gli altri sono più o meno tutti secondo me sullo stesso livello Tutti e tre diciamo sulla sufficienza C'è un episodio in particolare Ovviamente ci arriveremo tra poco con un'analisi più dettagliata Che non solo mi ha colpito maggiormente Mi ha anche molto divertito Perché poi ci sono degli sprazzi di sana commedia italiana E comunque ci sono dei momenti di divertimento Che vanno anche oltre a quell'intensità E quell'intelligenza che è sempre presente In questo progetto che è i migliori giorni e i peggiori giorni Insomma Quindi sia per quanto riguarda il primo film Sia per quanto riguarda il secondo Però c'è questo episodio che ho trovato molto interessante E mi ha dato modo di comunque fare diverse riflessioni Mi ha dato tanti spunti di riflessione E nonostante non sia perfetto Altrimenti vi avrei parlato di Quanto meno qualche picco elevato a livello qualitativo È sicuramente un episodio Che non vedo l'ora di rivedere Per poterlo analizzare anche meglio E che comunque secondo me dà qualcosina in più a questo film Andiamo nel dettaglio Andiamo nell'analisi di questo film Dal quale come detto non mi aspettavo granché Il trailer non l'avevo visto Come sapete spesso sono anche fuorbianti i trailer Perché già dal primo film mi aspettavo troppo Visto il cast, i registi La struttura tipica Della commedia italiana anche di un tempo Anni 50 e 60 di episodi Credo fosse normale Credo fosse lecito Aspettarsi un grande film E invece come detto Prima parte sì Ma la seconda mi aveva totalmente deluso Per cui sono andato con i piedi di piombo A vedere questo film Ho detto con calma Non ci aspettiamo niente di eccessivo Vediamo che film è Vediamo che sequel è Se così vogliamo intenderlo Anche se poi di sequel ce n'è solo uno Di episodio E vediamo che cosa ci hanno regalato Stavolta Bruno e Leo Il primo è un episodio sicuramente interessante E per certi versi anche brillante Un episodio carino, godibile È interpretato molto bene Da Bruno, Leo, Foglietta Bonini, Fiorelli Il grandissimo Renato Carpentieri Ma ha un difetto secondo me fondamentale Che poi è un difetto Che si palesa fin dall'inizio E va avanti per tutto l'episodio Bastano 5 minuti per capire tutto Bastano 5 minuti per comprendere Un grande colpo di scena Che dovrebbe essere in realtà Tra virgolette Un grande colpo di scena Che arriva esplicitamente alla fine Per cui secondo me A livello di sceneggiatura È un episodio troppo troppo Semplice Già visto Che non riesce assolutamente Ad avere la stessa verve La stessa qualità Anche dal punto di vista contenutistico Che aveva l'episodio di riferimento Del primo film Un episodio secondo me Bellissimo Una vera e propria commedia L'italiana di oggi Quell'episodio Non tutto il film Era un episodio intelligente Rivea attentissimo Bruno in forma smagliante Un bravissimo Leo Anche gli attori Che qui sono bravi Erano di un altro livello In quel film Sono tutti attori che conosciamo Sono tutti bravissimi Ma in quel film In quell'episodio Avevano qualcosa in più È un episodio sufficiente È un episodio Ripeto godibile Seppur abbia diversi difetti Ma soprattutto Per quanto riguarda Il potenziale Che presentava La storia Non posso ritenermi Assolutamente soddisfatto Lo salvo Lo rivedrei con piacere Ma è veramente Troppo prevedibile E non rispetta Assolutamente le aspettative Se non avevo Alte aspettative Per il film in sé Per questo episodio Sì Passiamo invece A tutte le novità Secondo episodio Ambientato il primo maggio Festa dei lavoratori Fabrizio Bentivoglio Giuseppe Battiston Nei panni Bentivoglio Di un imprenditore Ormai sull'astrico Praticamente fallito Che ha debiti con chiunque Battiston Nei panni proprio Di un lavoratore Di una sua azienda Che è stato licenziato E che addirittura Vorrebbe sequestrarlo Da principio in origine Per riscuotere La sua liquidazione Che non gli è stata riconosciuta Un tema sicuramente Sempre attuale Purtroppo Un tema sociale Intelligente Che rispecchia il nostro paese Lo rispecchia oggi Ma lo rispecchia anche Per quello che è stato in passato E credo e temo Che lo rispecchierà ancora Per parecchio tempo Sicuramente c'è il tentativo Di trattare un tema del genere In maniera originale Ma secondo me Il risultato Non è particolarmente brillante Sono bravissimi Bentivoglio e Battiston Due interpretazioni Veramente strepitose C'è grandissima intensità C'è anche parecchia suspense Durante il corso dell'episodio Qualche sprazzo di ironia Ma è una storia Profondamente drammatica È un episodio Assolutamente intenso È molto riuscito Da questo punto di vista Per il resto La tematica è già vista Non è trattata In una chiave Particolarmente diversa Dal solito Particolarmente originale E diciamo Difetto finale L'episodio è incompleto Non si conclude C'è un finale sospeso Che lascia la possibilità Ha la facoltà Diciamo Allo spettatore Di interpretarlo A proprio piacimento Di immaginare Come possa terminare Ma più che come Una scelta di questo tipo L'ho interpretata Come l'unica possibilità Di far terminare Un episodio Che evidentemente In fase di scrittura Non si sapeva Come far terminare Quindi Bravissimi Bentivoglio e Battiston Molto intenso Sicuramente interessante Con una tematica Attualissima E socialmente importante Ma sicuramente Non brillante Già visto E incompleto Quindi un secondo episodio Che si salva Che è sufficiente Grazie soprattutto I due attori Ma che non lascia il segno E che non mi ha Particolarmente colpito Arriviamo al terzo episodio Che è come vi dicevo L'unico episodio Che mi ha veramente colpito Per quanto abbia I suoi difetti E che non vedo l'ora Di rivedere anche con Se possibile Più attenzione Di quanta ne abbia Già avuto al cinema Interpretato da Ricky Memphis Claudia Pandolfi Anna Ferzetti Neri Marco Re Con anche degli attori Giovani che non conoscevo Forse anche esordienti Ambientato a Ferragosto Quindi più o meno In questo periodo dell'anno Quando è uscito il film Era praticamente Ferragosto È un episodio Anche questo Socialmente molto importante È un caso Che il film Esca praticamente In concomitanza Con la terribile vicenda Dello stupro di Palermo Questo episodio Non tratta La tematica dello stupro Ma sicuramente Delle molestie Una giovane Giovanissima ragazza Che viene molestata Proprio a Ferragosto Da due ragazzi Che sono i figli Di Ricky Memphis E Claudia Pandolfi Mentre la ragazza È proprio la figlia Di Anna Ferzetti Enneri Marco Re Che vanno Tra virgolette A disturbare Gli altri due genitori Per parlare Di questa Vicenda Così triste Così brutta Così vera Purtroppo Sicuramente Nella nostra attualità E quindi Una vicenda Insomma Da risolvere In qualche modo Di cui è necessario Parlare Mi fa piacere Che in questo episodio Si parli anche Di educazione Per quanto riguarda Questi atteggiamenti Queste bruttissime Vicende Che molto spesso Troppo spesso Accadono Perché poi È tutto da lì Che parte Dall'educazione Dalla cultura Personale Di ogni ragazzo Per come viene cresciuto Per il contesto Nel quale nasce E cresce E che lo porta Poi eventualmente A commettere Determinate cose Veramente incommentabili La cosa più interessante Di questo episodio È la chiave di lettura In questo caso A differenza del secondo Non c'è moralismo Non c'è banalità Vengono descritti E in qualche modo Rispettati Dalla sceneggiatura stessa I punti di vista Di entrambe le famiglie Si cerca di raccontare La storia Senza prendere Delle posizioni Ovviamente Condannando la molestia Come sacrosanto che sia Ma senza puntare il dito In maniera comoda Diciamo così E si cerca anche Secondo me Di dare originalità Appunto Alla tematica trattata E questo sicuramente riesce Poi l'episodio Non riesce Secondo me A convincere al 100% Anche in questo caso Il finale non mi è piaciuto Si conclude con una frase Diciamo Anche abbastanza criptica Che non ho Particolarmente apprezzato Compreso sì Ma che secondo me Non è poi così funzionale Un'altra cosa bellissima È che l'episodio È divertentissimo Soprattutto nella prima parte Ricky Memphis È in forma smagliante È esilarante Ma anche la stessa Pandolfi Sono bravi tutti I giovani forse Un po' meno Ma non sono qui Per condannarli assolutamente Aspetto di vederli Ancora in altre interpretazioni Si poteva sicuramente Fare di più Il finale non mi ha convinto Ma si ride tantissimo Nella prima parte E si riflette molto Nella seconda Senza moralismo Senza banalità Non è un episodio Già visto La tematica è attuale Ed è importante Ma è trattata In una chiave Assolutamente originale Cosa che non accade Sotto nessun punto di vista Per quanto riguarda Il quarto episodio Papaleo Giovanni Ambientato ad Halloween Rocco Papaleo È un uomo bedovo Che ha perso la moglie Da qualche anno Che è interpretata Nei ricordi Da Antonella Attili Ha perso praticamente Anche il lavoro Per depressione Va avanti ad alcol E dormendo sulla poltrona Insomma viene Ogni volta accompagnato Dalla figlia A letto Per dormire Per cercare insomma Di non stare troppo male La figlia è molto scottata Scoprirete perché Dalla morte della madre Non si lega mai a nessuno A soltanto delle avventure sporadiche E Giovanni È un vecchio conoscente Del personaggio interpretato Da Papaleo Centra la donna La donna che è scomparsa E i due si ritroveranno Proprio ad una festa di Halloween Dove Papaleo Andrà per aiutare la figlia A fare delle magie Perché è bravo Insomma a fare Il mago E a fare dei giochi di magia Per i bambini Per i ragazzini È un episodio Totalmente vuoto La tematica potrebbe essere Anche interessante Direte voi Un tema anche questo Sicuramente interessante Gli attori sono bravi Sono buone le interpretazioni Ma è un episodio Assolutamente privo Di contenuti Un episodio che Non è neanche Particolarmente interessante E intrigante Che non riesce Secondo me A tenere lo spettatore Incollato allo schermo Che non ha Berve E anche qui Un finale Veramente incompleto Come se anche in questo caso Non si sapesse Come farlo terminare Insomma Il primo episodio È interessante Ma è estremamente prevedibile Il secondo Intenso Ben interpretato Ma secondo me Non lascia il segno Il terzo Mi ha dato tanti spunti Di riflessione È anche divertentissimo Nella prima parte Tratta quantomeno In chiave originale Una tematica Ovviamente molto Trattata e anche attuale Per quanto però Non venga sfruttato Al meglio Al massimo Tutto il potenziale Il quarto episodio È totalmente privo Di contenuto Ed è una grandissima delusione Nel complesso Per me I peggiori giorni Di Massimiliano Bruno Ad Edoardo Leo È un film sufficiente Leggermente inferiore Al primo film Che peccava di equilibrio Ma quantomeno Nella prima parte Era assolutamente brillante Con due episodi Di ottimo livello Qui nessuno spicca Il primo e il terzo Sono leggermente migliori Io comunque vi consiglio Di andare a vederlo al cinema Soprattutto se avete visto Magari apprezzato I migliori giorni È un progetto Che si conclude Con da parte mia Spettatore che si aspettava Tantissimo Un po' di delusione Perché secondo me Il potenziale era altissimo E non è stato sfruttato Nel migliore dei modi Ma comunque Ci sono anche Delle belle cose Dei bei momenti Che sarà molto bello E interessante Rivedere Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate I peggiori giorni È al cinema Lo so che andrete tutti A vedere Openheimer Lo farò anche io Ma se vi va Se l'avete già fatto Ovviamente bravi Bravissimi Ma se vi va Andate al cinema A vedere questo film Che sicuramente male non fa Ciao a tutti E sempre Viva il cinema italiano Ciao a tutti